Migliaia di manifestanti antigovernativi sono scesi nuovamente in strada a Bangkok per chiedere la riforma del sistema elettorale prima di indire nuove elezioni in Thailandia. A guidare del malcontento il leader del Partito Democratico, Sutep Thauksu Ban, che ha respinto il tentativo di Ingluk Shinawatra di mettere fini alla crisi con la convocazione di elezioni anticipate il 2 febbraio. A suo parere, ma su questo punto l'opposizione è divisa, nuove elezioni serviranno soltanto a consolidare il potere di Thaksin Shinawatra, l'ex premier riparato all'estero, accusato di governare per procura attraverso la sorella minura Ingluk. Lo stallo è simile a quello avvenuto nel 2006, quando l'allora premier Thaksin indisse nuove elezioni, incontrando però il boicottaggio dei democratici. Nonostante l'entusiasmo nelle strade di Bangkok, infatti, in caso di nuove elezioni, è quasi certo che il partito degli Shinawatra prevarrebbe ancora.